musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi mamma mia parliamo di un sacco di novità trovate nei file di gioco della patch 6.2 ovviamente quella relativa ad halloween ragazzi abbiamo visto come ci sono cambiamenti radicali alla mappa le location hanno messo la nuova modalità nel parco giochi hanno messo ovviamente la modalità incubo con zombie pietre revolver ma oggi voglio parlarvi di cose che ancora non sono state viste di skin nuovissime di picconi nuovissimi e ragazzi del nuovo starter pack che tra pochissimo finalmente sarà disponibile per tutti quindi ragazzi mi raccomando di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video non vi dimenticate di attivare la campanella e di iscrivervi al canale ma prima di iniziare ragazzi come al solito una domanda che voglio chiedervi e voglio vedere i vostri commenti qui sotto dai che sono sono curioso è molto semplice quad o atk fatemelo sapere qua sotto ragazzi qual è il vostro veicolo preferito quindi ragazzi dentro subito cominciamo parlando di una figata che è stata trovata nei file di gioco il nuovissimo deltaplano che sarà disponibile da novembre per tutti i possessori della skin galaxy come vedete ragazzi il deltaplano ovviamente è esattamente uguale come skin alla galaxy va a riprendere tutto il colore stellato va a riprendere le sfumature viola e insieme al deltaplano ragazzi verranno verrà anche dato da epic games il piccone se devo essere sincero non è che mi fa gasare proprio tantissimo sia il piccone che il deltaplano però per avere una skin completa ci sta un botto chi lo sa che magari non daranno anche un backpack più avanti ma andiamo avanti ragazzi parliamo di un backpack incredibile trovato nei file di gioco eccolo qua ragazzi il si chiama vortice una cosa del genere vortice incantato adesso non mi ricordo il nome con precisione ma ragazzi è una cosa che già secondo me potrebbe farci annusare quello che potrà arrivare nella season numero 7 io ve l'avevo detto ragazzi magari non sarà così ma secondo me le fiabe centreranno con la season 7 non chiedetemi perché ma ci sono tanti elementi che dalla 6 potrebbero essere trasportati alla 7 quasi certamente verrà rivelato il labirinto che c'è sotto alla mappa come abbiamo già visto anche nello spray presente nel pass battaglia di questa season c'è da dire ragazzi che questo backpack è veramente molto molto curioso e staremo a vedere quale sarà la sua funzionalità o meglio quale sarà la skin che lo ospiterà ma avanti ancora ragazzi e parliamo di un tweet trovato da un leakers che è abbastanza importante nella scena mondiale dove ragazzi recupera un file che si chiama bunny moon che vuol dire coniglio della luna e se andiamo a guardare l'ultima riga di questo tweet è una skin di halloween dedicata proprio alla festività che noi purtroppo la sentiamo poco ma loro all'estero halloween lo vivono in maniera veramente veramente diversa e ragazzi non è finita oltre avere trovato la stringa stang abbiamo anche la skin eccola qua ragazzi il bunny moon molto carina è come skin assolutamente non capisco bene perché abbia degli adobbi natalizi attaccati addosso ma probabilmente ce ne sarà un motivo una skin femminile come vedete con il la maschera da coniglio corpetto poi c'è i pantaloni a righe che sembra una circense insomma ragazzi staremo a vedere quale sarà la funzionalità di questa skin dove verrà inserita perché ancora sinceramente non lo sappiamo ma sappiamo ragazzi una cosa interessantissima scoperta da un altro leakers molto molto famoso c'è un nuovo spray ragazzi che sembra venga regalato a tutti i giocatori qualora raggiungano il livello 100 stagionale eccolo qua ragazzi lo spray molto semplice nella sua bellezza un come si dice simbolo un numero 100 piantato bello lì grande con due specie di allori che in realtà sembrano essere formati dal cubo perché il colore viola ovviamente ci fa capire che fa parte della season numero 6 potrebbe ragazzi essere la prima il primo spray che verrà regalato a livello 100 e che potrebbe essere appunto il primo di una serie di spray che ogni season ci verrebbero regalati qualora raggiungessimo il livello 100 stagionale come già sapete come fanno con gli ombrelli che ci regalano appunto un ombrello ogni stagione potrebbero fare così anche con lo spray rapidamente ragazzi andiamo a vedere anche un regalo che ci fa epic sicuramente lo abbiamo visto tutto ma ci stava dirlo in un video con la nuova patch di halloween ci vengono regalati ben 5 nuovi standardi direttamente così come regalo senza nessuna senza nessun requisito particolare da parte del giocatore standardo del cespuglio uno standardo del cane la testa del cavaliere rosso il lama che è strabello e le coin del magnus ragazzi quindi 5 standardi free totalmente per quello che riguarda il nostro profilo grazie a epic ovviamente per averceli regalati non fanno mai male ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di qualcosa di molto interessante vi ricordo però dai raga un bel pollicione in su mi raccomando non vi dimenticate di lasciarlo e di iscrivervi al canale perché ragazzi abbiamo il nuovo starter pack guarda un po' stan ragazzi da pagliura come sapete non c'era lo starter pack nella season 5 non mi sembra ci fosse stata fammi pensare o era l'ace no lo starter pack da season 5 c'era era l'ace se non ricordo male questo è lo starter pack della season 6 molto molto carina e interessante come skin come vedete ragazzi non saprei attribuirgli bene uno stile è tutto mascherato tutto bardato vediamo che ci danno un backpack insieme alla skin e ci danno anche dei vbucks potrebbero essere 600 indicativamente come ad esempio ricordo lo starter pack della season 4 che era l'aviatore che veniva dato con 600 vbucks ma anche l'ace mi sembra che lo davano con i vbucks a parer mio l'ace fa paura è bellissimo ma anche questo ragazzi non è assolutamente male staremo a vedere quando uscirà dovrebbe essere questione oramai di giorni non penso che ci voglia molto potrebbe anche arrivare addirittura martedì prossimo non sappiamo ancora molto carino zaino che contiene dentro una specie di radar e altre cose che boh una torcia nel senso sembra quasi un ladro in poche parole comunque gg per lo starter pack andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa interessante che riguarda la skin muscia e la skin light si chiama in inglese ma non mi viene in mente il nome e in italiano quindi la controparte femminile del muscia che in questa pace ragazzi vengono come si dice aggiunti degli stili personalizzabili per entrambe le skin li stiamo vedendo insieme in questo momento personalmente il muscia così mi piace tantissimo bellissimo come samurai ragazzi e questo vuol dire che quindi anche molte delle prossime delle nostre skin che abbiamo potrebbero avere degli stili personalizzabili tre stili due stili in poche parole per entrambe le skin tanta tanta roba veramente molto interessanti molto belli ringraziamo ovviamente sempre epic games anche per questo lavoro ragazzi io direi che il video per oggi può finire qua vi ringrazio tantissimo per averlo guardato spero che tutti i leaks vi siano piaciuti ringrazio anche ovviamente il mio gruppo di leakers per avermene mandati alcuni e per aiutarmi sempre con questi video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e vi ricordo che se entro domenica arriviamo a 95.000 iscritti ci sarà un contest da 10 euro per uno di voi noi ci vediamo in live ciao 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 ciao